Continuiamo a parlare di Munch e lo facciamo con una carrellata di opere, mi fermerò solo su alcune, solo su quelle che ci serviranno poi per i nostri percorsi futuri. Allora, quella che vedete è la morte nella stanza della malata, accidenti, i temi sono drammatici, prepariamoci. Ricordiamoci sempre che lo stesso Munch aveva scritto, aveva notato malattia, morte, follia, erano stati gli angeli custodi della sua culla, vi ricordate che vi avevo citato questa frase, quindi immaginiamoci la morte della madre prima, la morte della sorella, poi insomma convivere con la malattia, in qualche modo l'ossessione del padre, la depressione del padre, quindi immaginiamoci davvero. La cosa che mi premeva mostrarvi con alcune delle opere su cui mi fermo è la forza espressiva potentissima di queste opere, vedete che ormai le forme sono totalmente, dal punto di vista stilistico, sintetizzate, pochi tratti, a volte i volti sono ancora visibili e riconoscibili, altre volte perdono gli elementi di riconoscibilità, non hanno occhi, non hanno bocca, non hanno naso, sono veramente quasi cancellati, identità che forse, a parte questa donna, con questa occhiaia, questo volto ceruleo, pallidissimo, che guarda nella nostra direzione, ma quasi priva di vita. Gli altri personaggi quasi sembrano essere cancellati nella loro identità e questo permette anche un meccanismo in fondo di identificazione, perché nel dolore, nell'assistere a una malata, nel dover affrontare la morte, siamo veramente resi tutti uguali. E vedete anche che c'è un gruppo di persone in questo spazio, ma ognuno risulta isolato, solo. Il tema della solitudine, il tema dell'angoscia, saranno appunto temi sviluppati spesso nelle opere di Munch. Guardate il suo coraggio pittorico, però, queste pennellate visibili, riconoscibili, talvolta la campitura a pla, ricordiamoci che il nostro era stato influenzato dal simbolismo di Gauguin, ma anche dalla stesura pittorica di Gauguin. Guardate la potenza di questo verde, di questo fondo apparentemente a pla, appunto, che però diventa espressivo, molto carico. Guardate come queste ombre, proiettate sul muro, ombre colorate, del colore sul colore, l'ombra dell'abito sul colore del muro. Vedrete come la presenza nell'ombra sarà un altro elemento forte, importante, che ci porteremo dietro. Vi mostro qualche altro dipinto. Non mi fermo tanto su questo, ma è un tema simbolico, la danza della vita, e in questo caso l'autore dovrebbe essere quello al centro, con questa donna mostrata per tre volte, donna di cui era innamorato e con cui in realtà aveva avuto una vicenda burrascosa e finita male. Quasi a rappresentare la delusione. La prima parte, questa giovane, con le braccia aperte, il colore bianco dell'abito, vitale, la speranza, il ballo al centro. Questa celebrazione era ambientata in questa festa che veniva celebrata ogni anno, e quindi all'aperto, con questo fondo nel mare. Guardatemi, per me mostrava in particolare questo chiaro di luna. Vi avevo già mostrato in un'altra occasione il bacio tra i due amanti al chiaro di luna, ma voi vedete davvero che questo chiaro di luna diventa una sorta di segno grafico inquietante, invece di essere il riflesso romantico della luna che si rispecchia sull'acqua, davvero qualcosa di inquieto. Ecco al centro i due personaggi che stanno danzando, questo abito rosso della passione che brucia, che scotta e che divora. Guardate anche l'abbraccio di altri personaggi sul fondo davvero inquietanti. E poi la stessa donna vestita di nero lateralmente quasi a raccontarci che c'è una sorta di morte, di fallimento che attende. Guardate come le braccia, le mani chiuse, in una posizione proprio di chiusura, di fine, di delusione. Forse le aspettative che ci sono, che lui viveva in questa relazione, che però possono essere collegabili a tutte le relazioni, le aspettative dell'inizio, alla passione bruciante e alla delusione che spesso accompagna la conclusione di una vicenda di questo tipo. Guardate come il bianco e il nero siano contrapposti, il rosso centrale, questo verde piatto, vi dicevo anche prima, del fondo. Questo componente, questo fiore che sboccia di fianco alla donna che noi vediamo a sinistra. Ma al di là di questo, era soltanto, non volevo fermarmi più di tanto, era solo una carellata. Anche qui faccio scorrere il letto di morte, guardate anche qui come ci si ha le mani che di questo personaggio mi ricordano le mani della sorella malata, delle due donne che le univano. Guardate come questi volti siano sempre più spaventosi, questi volti pallidi di cui già ci aveva parlato, quasi fosforescenti, che sbuccano dal buio, vedete che c'è un'unica ombra che uniforma il tutto, l'ombra della morte e vedete che ognuno è isolato in questo sconforto che è reciproco, le persone sono vicine ma è individuale lo sconforto, il dolore della perdita è individuale, davvero è qualcosa di molto forte, potentissima come immagine. In realtà volevo fermarmi un pochino di più su un'opera che ci servirà tanto per andare in avanti, si intitola Pubertà, opera del 1895 che ci propone un tema che è ancora una volta quello del nudo femminile, ma in questo caso è un nudo femminile appunto rappresentato in un momento in cui c'è lo sviluppo, la pubertà, il momento in cui la donna, anzi la bambina si sta preparando a trasformarsi, il suo corpo in parte già trasformato si sta affacciando alla vita di adulta, quindi nel momento della pubertà, nel momento di passaggio, nessuno che io mi ricordi aveva mai dedicato un dipinto a questo tema, nel momento di questo passaggio. Pensate a quando voi che avete già superato la pubertà, il momento proprio di questo cambiamento, il corpo che cambia e le domande che rimangono senza risposta, perché il cuore è troppo giovane, la testa con pochi strumenti non sa darsi risposte, pure le paure che hanno accompagnato questo momento di trasformazione. Eppure pensate, tutti gli adulti quando si trovano davanti una ragazzina o un ragazzino che si sta trasformando, che non è più bambino ma che diventerà, ma non è ancora nemmeno un adulto, insomma in questa via di mezzo. Ecco, pensate, tutti gli adulti dicono Ah, che beato, no, è giovane, tutta la vita davanti, come se l'essere giovane fosse visto come qualcosa di assolutamente positivo. Giovane coincide con positivo. Ecco, non è così nella visione ovviamente drammatica, realistica, soffocante di Munch, perché Munch ci presenta questa ragazza, questa ragazza nuda, su questo letto bianco, un bianco che però, come vedete, ha un bianco sporcato, no, da un colore azzurro, rosa, grigio, no, non è la purezza. Certo, il bianco è associato alla purezza, ma è un colore che già perde, no, questa componente di purezza. Ma vedete appunto il volto un po' estraneato. In questo caso riconoscibili non sono quei fantasmi che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora nel celebre urlo, ma è un volto riconoscibile più realistico, più naturalistico. Perché? Perché ci serve per mostrarci davvero questa trasformazione. Guardate come le spalle della ragazza al seno siano ancora quelli di una bambina, in realtà, no? I suoi occhi, il suo volto, no, atterrito, occhi spaventati, sgranati, no, quasi ad affacciarsi al momento che l'aspetta, al futuro. Il suo presente, ma il suo futuro è ciò che la spaventa. Si fa presto a dire ai ragazzini, oh, andrà tutto bene, tutto facile. Lo dicono gli adulti che hanno già superato, no? Certe domande che hanno già trovato una sorta di equilibrio. Invece, guardate appunto, i suoi fianchi sono già un pochino più larghi, sono quelli di una ragazza che sta già diventando donna. E guardate però il modo in cui la ragazza sia appunto seduta su questo letto, ma chiuda le braccia a croce, un po' per preservare la sua intimità, la sua, no, la sua sessualità, un po' quasi a semboleggiare questa chiusura, questa specie, questa croce di morte. Quindi ancora una volta l'abbiamo già affrontato come tema, no? Questo legame tra la vita e la morte. Ma l'elemento più forte che emerge probabilmente è quello che si riconosce in queste ombre. Già vi avevo messo in evidenza appunto le ombre, no? Il potere evocativo fortissimo, dell'inquieto. Vedete che è un'ombra che non è naturalistica, cioè non è la sagoma vera della ragazza, ma è come se fosse un'ombra che da dentro si proietta fuori. Ecco, ricordiamoci sempre che Munch è stato considerato, è considerato, ma è stato considerato anche all'epoca sua, il padre, il precursore dell'espressionismo. Espressionismo, esprimere, cosa vuol dire? Spremere fuori, da dentro qualcosa che viene buttato fuori. Quindi questa ombra non è l'ombra del corpo che viene illuminato da una luce naturale, artificiale che sia e che quindi viene poi proiettata sul muro, sul letto, nella stanza, nell'ambiente reale, ma è quasi più una sorta di concretizzazione di questi demoni interiori, di questo disagio, di queste paure che la ragazza evidentemente sta vivendo in se stessa e che l'autore ha voglia di far emergere, far uscire, materializzare, concretizzare con queste, no? Con queste. Guardate, proviamo a isolare veramente la potenza pittorica di questa ombra in sé. Vedete le pennellate graffiate, quasi come se fosse davvero una creatura vera, viva. Guardate appunto il graffio bellissimo delle pennellate, una pennellata molto coraggiosa perché è totalmente, ha rinunciato totalmente alla grazia, alla piacevolezza della resa mimetica della pennellata. Cosa voglio dire? Gli artisti a lungo, fino all'impressionismo, si erano proposti l'obiettivo di rappresentare la realtà come l'occhio la vede e quindi la pennellata non doveva comparire, doveva sparire. La maestria dell'artista consisteva nel riuscire a rendere l'immagine della realtà senza che se ne vedesse la mano, senza che si vedesse la singola pennellata dell'artista, come se il dipinto potesse in qualche modo competere con la realtà, un'altra realtà, l'artista creatore, no? In questo senso che ci proponeva un gioco. Invece guardate come ormai il segno grafico sia espressivo. Ogni singola pennellata, l'abbiamo già visto, no? Espresso in modo molto molto forte in Van Gogh, ogni singola pennellata si fa tramite di un racconto espressivo che è molto forte, che è profondo, che è urgente, che è importante. Ecco, opere come queste saranno alla base di gli artisti che verranno dopo, saranno studiate, saranno davvero la fonte di ispirazione per moltissimi artisti che verranno dopo. Ricordiamoci che Munch rimarrà a distanza a Berlino fino al 1908 circa, cioè circa nel senso fino al 1908, anche come spostando su qualche volta in mezzo, e gli artisti tedeschi delle generazioni giovani saranno fortemente influenzati dalla sua opera. Alcune delle opere che vi sto mostrando facevano parte di questo fregio della vita che lui ha esposto nel 1902 appunto a Berlino e che volevano racchiudere nel singolo l'universalità del dramma che ognuno può sperimentare in se stesso. Ecco, queste opere saranno veramente meditate, saranno spunto da cui punto di partenza per tanti artisti espressionisti, in particolare i tedeschi, ma non solo, anche i francesi, perché appunto il legame con Munch e Parigi comunque ci sarà. Per cui anche l'espressionismo francese, quando vi parlerò, tra non molto, di Matisse e dei Fauve. Ecco, è curioso immaginarlo, ma in fondo c'è anche una radice importante di influenza, anche in quel caso.